C'è chi batte, put***a! Spero che muori, put***a! Hai detto spero che muori? Potrei passarci sopra, cercare di chiarirmi con lei e risolvere il tutto esponendo le mie tesi in modo pacifico. Sì, credo che sia un'ottima... Put***a! Dai, dai, cattiva! Dai, 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 cattiva! Dai, dai, cattiva! Brazza! Fai così, cattiva! Bullismo a bollate! In caso che ha sconvolto i social e ha lasciato indignate migliaia di persone. L'ira del web si è concentrata su Giovanna la bulla. Ma le persone attorno sono davvero migliori di lei? Come si può vedere una ragazzina picchiata in quel modo e non fare niente? Ma che tipo di spettatori assistono ad una rissa nel 2014? Noi ci siamo fatti un'idea. Minchia che botte, oh! C'è che mi faccio un selfie, va! Oh, ragazze, dai, spostatevi un po' più a destra che non entrate nell'inquadratura. Dai, menatevi più in là. Là, ecco. Oh, zio! È partita la rissa! Fumiamo? Ah, che fumiamo? Firmiamo! Io campo, tu contro campo! No, no! Che tristezza, sono disgustato. Guarda, sento proprio bisogno di scrivermi uno stato cazzuto su Twitter. Incredibile. Sono abbollate, due ragazzini si picchiano e nessuno che fa niente. Vai! Che merda! Vai così! Vai così! Ammazzala di botte! Deve sputare l'intestino tenue questa cagna! Dai, vai! Dai, ma non ti vergogna di citare così questi antiosceni? Ma sei un buffone! No, ma guarda che io sono contro. Anzi, se vuoi puoi iscriverti anche alla mia pagina su Facebook. Stop al bullismo! Ah, c'ho anche quella contro la pedofilia. Perché? Cosa ho detto di male? Lasciala andare! Oh mio Dio, trocevi prego, smettetela! Ma invece che piangere come una mongoloide intervieri, no? Insensibile! Uno, due, tre! Siamo venuti fin qua! Siamo venuti fin qua! Per vedere la giochi festa! Oh! La sta ammazzando di botte quella, interveniamo! Ma sei scemo, è cattivissima! Ma cos'è cattiva che è una bambina? Sì, è l'esorcista! Beh, in effetti! Magari interveniamo tra cinque minuti, eh! Ma forse è meglio! Cafferino? Cafferino, andiamo dai! Certo che queste scene sono come quelle dei film. Manca solo la colonna sonora e siamo a posto. Oh Sara, camminando su sentieri di scuola Su un diario segreto scrivevi Quella pesca non è comandà Oh, oh Sara! Povera Italia! Camminando su sentieri più sturi! Ma mollami via! Ma levati da le palle! Don Don! Una ragazza sta picchiando la nostra compagna! Faccia qualcosa! Ma no, ma no, ma fa benissimo a non reagire! È l'insegnamento di nostro signore! Vedrai che ne uscirà vincitrice! Ma come? Se continua così la ammazza! Ma, 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 ma voi giovani proprio Siete proprio stupidi, eh! Certe volte! Brava ragazza! Porgi l'altra guancia! Ancora! 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 Vai! Aiutate! Vieni, prego! Ho la pressione intermedia! Sto stifo! Sto staglia! Ha messo noia! Sto staglia! Sto staglia! Ah! Ah! Eccomi qui, amica mia! Sono venuto a salvarti! Ora sei al sicuro! Ma vaffanculo! E questa era la nostra visione sul caso di Giovanni Lei ha sicuramente sbagliato Ma la responsabilità più grande in tutto questo casino è delle persone attorno Se qualcuno fosse intervenuto avrebbe evitato qualunque problema Non ci sarebbe stato il polverone mediatico e nessuna conseguenza per le due ragazze Perché la vera violenza è l'indifferenza E voi ragazzi cosa ne pensate del caso di Bollate? Lasciate un commento qua sotto e se la pensate come noi condividete questo video su Facebook con l'hashtag Stop al bullismo E al prossimo video Uno, due, tre Siamo venuti sicuro Siamo venuti sicuro E la lei è la nostra festa Siamo venuti sicuro E la lei è la sua festa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.